è terminata, però io vi voglio sentire ancora una volta protagonisti con un bel... cambiamo facciamo gli internazionali che c'è di buon auspicio per tornare a respirare una certa aria internazionale, fatemi al mio 3 un bel we are papa, ok? al mio 3 un bel we are papa, ok? 1, 2, 3! we are papa! vi ha ricordato il messaggio di oggi? bisogna sempre pensare pulito e appunto cerchiamo di essere con il nostro scudo crociato cucito addosso anche se qualcuno ha visto che ha fatto altri scugli, si vede, si sono dato dalle ghiacchiere che avevamo fatto in precedenza ora è arrivato il momento tanto atteso, quello di utilizzare, quello per utilizzare, quella cartolina che vi è stata consegnata, il foglietto più piccolo, quello più grande, ci avete fatto vedere quanto siete bravi con la matita a disegnare avete appunto fatto le vostre internazioni, ricordo che quelli più belli saranno pubblicati sui social del foglietto e su quelli della tarmacalcio 1913 il foglietto più piccolo, quello di cartolina invece serve per la raccolta degli autografi e qui i nostri protagonisti, tutti quanti, sono a vostra disposizione per la preziosa firma per quella cartolina che voi porterete sempre con voi nel vostro cuore e manterrete sempre il ricordo di questa giornata che spero sia stata per voi bella grazie a voi per l'ospitalità e per essere stati presenti e ora caccia all'autografo